Con questa domenica 2 dicembre 2018 inizia il nuovo anno liturgico e come sempre l'anno liturgico si apre con il tempo di avvento, un tempo di preparazione al Santo Natale. Certo se ci guardiamo intorno tanti sono i segni, soprattutto le luci che ci ricordano che ci stiamo avviando verso il 25 dicembre, giorno nel quale ricorderemo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Però noi vogliamo prepararci vivendo questo tempo di attesa qual è l'avvento anche attraverso alcune proposte che a partire già da lunedì sera andremo a farvi in questo avvento che quest'anno dura tre settimane più un giorno che però il 24 già è vigilia di Natale. Dal 3 dicembre lunedì alle 20 e 30 e per i giorni della settimana dal lunedì al venerdì vi proporremo l'appuntamento che da 42 anni va a scandire il cammino di Radio Pace e di Tele Pace della preghiera in famiglia. Preghiera in famiglia nel tempo di avvento con il tema quest'anno seguendo la stella. Credo che possa veramente diventare un punto di riferimento per vivere intensamente questa attesa perché sia un'attesa piena di speranza guardando certamente alla venuta storica del Signore Gesù che si è concretizzata 2000 anni fa ma anche guardando alla seconda venuta che non sappiamo quando sarà che però continuamente ci domanda di tenerci pronti di vegliare. Allora io vi aspetto lunedì 3 dicembre alle 20 e 30 in diretta con la preghiera in famiglia, preghiera che poi verrà riproposta il giorno successivo quindi da martedì a sabato alle 12 e 05. Vi aspetto per seguire insieme la stella che ci porterà a Betlemme. Grazie a tutti.